L'elenco di titoli italiani e europei mondiali conquistati è infinito. Da tanti anni il maestro Piero Manca, fondatore della palestra Osaka e Alessandra Carta, sua allieva e a sua volta pluricampionessa, sono tra i protagonisti del movimento del judo mondiale. Il loro palma, ad essere la loro costanza come atleti, ha portato il Cune Nazionale ad attribuire ai nuoresi il prestigioso riconoscimento della stella d'argento per meriti sportivi. In città un simile premio era stato attribuito all'Olimpione con Ardino Masu, La cerimonia di consegna si è svolta stamattina nella rinnovata sede del CONI. A consegnare riconoscimenti alla presenza di familiari e atleti, Sandro Floris, presidente provinciale del CONI di Nuoro. Piero Manca, oggi lei ha ricevuto la stella d'argento del CONI, un riconoscimento, una lunghissima carriera come maestro e come atleta, penso un punto di partenza. Sì, questo racchiude per il momento 50 anni di attività giudistica e la ripartenza verso altri traguardi agonistici e organizzativi. Il Giuda Nuoro è nato tantissimi anni fa, sono stato uno dei primi, uno dei pionieri e prosegue regolarmente in tutte le sue sfaccettature agonistiche e organizzative. Una grande soddisfazione per tutta l'attività giudoistica della mia vita, devo dire. Sono più di 30 anni che pratico questo sport, quindi questa è l'incoronazione di tutto ciò che ho fatto e di tutti i miei successi agonistici, però anche un punto di partenza. Questo mi dà, devo dire, la spinta per continuare a fare l'attività e per incoraggiare i ragazzi che praticano questa disciplina, perché comunque è una disciplina che oltre a darti tanti successi nella vita sportiva, è una disciplina che ti consente di andare a darti anche nella vita sociale e culturale, nello studio, nel lavoro.